Luna nuova Guarda se non lo sapevo che mi chiamavi Ciao Elisabetta Dimmi pure Che novità eh Che novità Due individue Ci penso io Infine il 24 settembre si concluse la ribellione di Satsuma Segnando così la fine dell'epoca dei samurai Sapete che c'è? Salteremo il prossimo capitolo Voglio tornare al periodo Sengoku C'è ancora molto da spiegare Cosa? Volete che vi insegni anche la storia moderna? Siete ancora al secondo anno Avrete un sacco di tempo per imparare quelle sciocchezze Quando sarete al terzo anno La gente parla della fine del mondo Ma date retta a me Ci sarà sempre un altro anno scolastico Su via Possibile che nessuno lo abbia notato? Guardate quante cose il nostro paese ha sopravvissuto fino ad ora Non ha tutti i torti effettivamente Mi piacerebbe ascoltarti ma Voglio andare in fretta avanti Tesoro bello avanziamo? Continua a cercare Mi-san Ma con scarso successo per ora Comunque Fionix-san Vorrei tornare nuovamente a casa con te Per te va bene Andiamo Grazie infinite Anche oggi fa freddo Dobbiamo tornare prima che faccia buio Oh Gattino Mi-san Comunque si era lui Era quello che era sulla macchinetta Lo sapevo che eri tu Mi-chan Adesso vedi che è crepata la vecchia Ammazza la vecchia Col cric Avevo fame nonna E' il nostro dovere signora Ma io non posso invecchiare signora Dovere Ecco Ecco Di nulla signora Dovere Sì, lo stavamo dire... Perchè... Non può essere una persona. Sì, probabilmente è... C'è chi lo dice... C'è chi lo dice... C'è chi lo dice... E chi lo dice... C'è chi lo dice... C'è chi lo dice... Oh, che carina Aegis sorride timidamente Il mio legame si è rafforzato Ma certo Puoi farlo, lo stai già facendo Beh Tutti siamo un po' negativi in questo periodo Do tesoro bello Abbiamo deciso di tornare al dormitorio Chi mi ferma? Bentornato Ultimamente il tempo passa davvero in fretta Siamo già a metà gennaio Phoenix-san, non esiterò più So cosa voglio fare, combattere al tuo fianco Sono tornato indietro un attimo nel tempo Perché mi sono dimenticato di andare al santuario E ho notato una cosa Che mi ha scritto Junpei Vediamoci dopo la scuola Qualcosa di importante? Yo Phoenix, ti sembra tutto improvviso Ma ti va di fare qualcosa di movimentato? Giochiamo a baseball Ti ho portato un guanto D'accordo Davvero Grande Grazie bello Andiamo al parco del santuario Ti faccio vedere la mia palla veloce Ma andiamo ad un'altra parte Ci sarà un campo Da Begisball, no? Beh, gli adulti fanno un sacco di cose stupide Dipende dove Ci sono campi ovunque in Giappone Non è che c'è tanto spazio Poi è un santuario Fra Magari l'hanno messo dopo Dopo che sei venuto a tu Oh Se riusciamo a superare questa storia Fallo Ti capisco Ti capisco anche fin troppo Ah ecco cos'era È ritornato indietro il pensiero Di Di Cidori eh Tu credi sia la scelta giusta? Non è importante cosa penso io Ma cosa pensi tu? E allora fallo Come regalo? Guanto da baseball eh Vediamo dai Andiamo a un batting center La prossima volta Fino a fine mese Io non so neanche cosa farò domani Nella mia vita Letteralmente Quello è un tuo problema Io ho studiato per tutto l'anno Però hai ragione Quello è vero Ti sei innamorato Hai perso l'amore della tua vita Ma abbiamo fatto tante esperienze diverse La nostra breve vita La mia ancora di più Puoi dirlo forte E finalmente l'hai accettato eh Alla tua allora Eh lo so Potevo scegliere di non farlo Speriamo Speriamo Magari non Hollywood Però il Giappone si Ma certo Ma certo come no Il tuo Parliamo del mio Non so se hai vinto mai un Oscar Grazie al film di questo Surt Oh ecco come si faceva Se i film di Persona 3 Abbiano vinto un Oscar O qualche premio Però ve lo auguro Bon Quindi domani faremo Aegis Quindi non lo rifacciamo Di nuovo Il video Bentornato E' bello rivederti Ultimamente il tempo passa davvero in fretta Sì lo so Hai già detto prima O meglio L'hai già ripetuto Meno male che siamo tornati indietro nel tempo Oh ma ogni giorno qualcosa eh Ultimamente ero un po' giù Così sono andata all'escapade per svagarmi C'era qualcuno che vendeva dei nuovi accessori fichissimi Purtroppo non ho comprato niente Era tutto fuori dalla mia portata Però se non compro nulla Non ho niente di cui parlare C'è qualcosa di economico da queste parti Che mi dici del nuovo piatto da Umiuchi Ne ho sentito parlare bene Dovrei provarlo Devo tenermi sempre aggiornata sulle ultime tendenze Anche se ultimamente molte tendenze hanno a che fare con la religione Mi fa schifo la religione Sembra che alcuni negozi abbiano dei nuovi prodotti Devo sbrigarmi a dare un'occhiata Perché siamo alla fine E' per quello che ti devi sbrigare Vabbè Aegis Quindi io e te adesso recuperiamo Ok Aegis fatta Oh ciao bentornato Oggi Mitsuru senpai e Sanada senpai Hanno dato gli esami da missione E proseguiranno anche domani Come fanno a concentrarsi in questa situazione? Perché non dovrei concentrarmi? Non ho intenzione di mollare Potremmo dire che stiamo sfidando il destino Ma voglio essere sicura di fare tutto il possibile In altre parole Nemmeno io ho intenzione di arrendermi In ogni caso Se vai nel tartaro Proveremo con te La battaglia finale sarà tra qualche settimana Non saranno gli esami a fermare il mio allenamento Wow Non so se riuscirò a tenere il passo Ma in ogni caso non ho intenzione di arrendermi Bravi tutti Junpei eh Potrebbe essere una scelta Potrei comprare questo Potrei comprare questo Solo per sfizio Con lana amritita Ma si dai Tanto tornerò dentro il tartaro Annulla tutte le alterazioni eh Beh in realtà È stato un bel acquisto sai Annullare tutte le alterazioni È sicuramente meglio Che guarirle istantaneamente In quel caso non ci può fare letteralmente nulla Junpei Andiamo a fare le piantine dai Ah già è domenica oggi Neanche me lo ricordavo più Chi è che mi ha scritto? Ah se non ti dispiace Ti leggo dopo dai Tanto non c'è neanche Tanaka ormai Cioè proprio Allora piantine Come state? Caricata Concentrata Riflettente E specchio Neanche a farla apposta Il pomodoro Arriva proprio il 31 eh Chissà se riusciremo ad accoglierli Quindi lo specchio è con Aegis Il riflettente con Junpei La concentrata con fuga È caricata da solo Ci sta Che facciamo oggi? Eh non è che ci sia molto da scegliere Aegis Però Visto che oggi è domenica Ne approfitto per andare due volte In sala giochi Ancora tu Vogliamo iniziare Xilla Xilla Besa Besa Ultimamente ne sono successi di cose nel mondo Ma non dovete lasciarvi abbattere Molti sono eccessivamente suscettibili agli effetti dell'occulto La cosa peggiore è che può fare un mago E perdere il controllo Fate sempre ciò che va fatto E non avrete problemi Ad ogni modo la lezione di oggi è sulla magia greca La grecia nota come il luogo d'origine della filosofia occidentale della razionalità L'arte degli anatemi avanzava di pari passo La grecia fu la patria di grandi filosofi come Socrate, Talate e Platone certo Ma anche di incantatrici leggendarie Per esempio c'era Medea La funesta incantratice di Colcide Era una strega che non esitò ad uccidere il suo fratello tantomeno i propri figli Poi c'era Circe, figlia di Elio Esperta sia di veleni che di medicina Se non fosse stato per correre l'aiuto di Hermes Circe sarebbe riuscita a trasformare il leggendario di Sé in un maiale Questi saranno pure dei miti Ma leggendo tra le righe si coglie il punto di vista dell'antica Grecia sulla magia La magia greca iniziò a prendere forma intorno all'ottavo secolo avanti Cristo Intorno a questo periodo si stavano sviluppando le polei Su un città-stato Come molte antiche civiltà I greci pregavano gli dèi per richiedere protezione C'erano templi gestiti dalle sacerdotesse Le quali fungevano anche da oracoli Gradualmente le cerimonie iniziarono a essere celebrate in segreto piuttosto che in pubblico Questo perché molti desideravano monopolizzare il potere degli dèi Copiavano le pratiche barbariche narrate nelle leggende Sacrifici, alcol, feste erogiastiche Queste pericolose studenze si diffusero in fretta Apollo, Dioniso, Orfeo Erano queste le divinità invocate durante questi rituali Mi state ascoltando? Non attraversate il fiume Strige? Allora vi farò una domanda Sbagliate, la vostra aura cambierà Xilla, Xilla, Besa, Besa Che potrei Che novità Ho menzionato due incantatrici greche Una era Medea chi era l'altra? Circe Molto bene La tua aura è limpida come l'acqua montana Ma tornando alla lezione Fu quella segreta a trasformare le sacerdotesse in streghe Gli insegnamenti che in principio dovevano salvare anima e corpo Finirono per diventare mera dissolutezza Che condusse le persone sull'orribile cammino delle pratiche immorali Necrofilia, utilizzo di bambini come ingredienti per pozioni Fu così che naccero le abominevoli arti oscure Arrivato a questo punto perché fermarsi Aegis? Sto pensando che comprerò la carta sai? Però ci mangiamo via dei rubini così eh Potrei entrare adesso, non oggi, nello specifico anche volendo potrei Nel tartaro Stare dentro a farmare l'inverosimile Uscire Rientrare E poi provare a sfidare di nuovo Elizabeth Nel momento in cui sono sicuro di aver creato delle persone buone Cosa molto difficile effettivamente Sembra molto più utile dover comprare l'arma che questa Ala dell'angelo caduto Ti pareva che non era Lucifero eh Ci manca solo Belzebue E a noi per Belzebue ci manca Lilith Beh anche lui non è male eh Lui ha le resistenze fisiche e una sola debolezza Volendo Certo usa due persone magiche che non c'entrano assolutamente nulla con lui Però sai cosa potrei fare? Potrei avanzare il più possibile adesso Per arrivare alla fine di Aegis Ci mancano cinque giorni Quindi cinque giorni Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì Avanziamo ancora un po' E l'ultima settimana Non ti dico quasi tutte le sere Ma proviamo ad entrare tutte le volte nel tartaro che riusciamo Così ci farmiamo un sacco di soldi Ma proprio tanti, 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 tanti E se voglio fare delle fusioni Non ho nessuna preoccupazione Uno, se voglio comprare altre gemme Non ho nessuna preoccupazione E tre, se dobbiamo farmare delle gemme particolari come il rubino che qualcuno non vende Magari abbiamo possibilità Forse se abbiamo fortuna Riusciamo a finire o Fuka o Yukari Le faccine da gatto Che bellina Tanto ci serve un solo rubino eh E prima di avere la spada Comunque Noi dobbiamo avere anche Lucifero A prescindere da tutto Quindi Resistegli ai danni fisici La prendiamo E andiamo a duplicarla Tutto questo in realtà è partito dal fatto che Oh resisti taglio Ma no no Resisti colpo E resisti sparo Quindi se possiamo Con una sola carta Prenderle tutte e tre Tanto meglio per noi Soprattutto per le persone che Hanno bisogno di una Spintarella in più Finiamo prima Aegis E dopo quello Decidiamo quando entrare Aegis andiamo Grazie infinite Ti va di andare nell'area commerciale Quel posto sembra così vivace Una favola Ah la signora Mi-chan-san Mi-chan-san No No Mi-chan-star Mi-chan-san Mi-chan-si Mi-chan-san 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 Ma Ma Mi-san Ma Si Signora Mi sa che il nipote è un po' uno stronzo Wow 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 Che stronzo Vai pure Ah è anche più piccolo lui E lo chiama normale invece Perché mi ha annoio Qualcosa di simile lo dice Ha ragione Però non è che ti sta sgridando Sto pensando a quello che è successo fino ad ora Posso dirlo che sembrano tante situazioni sparse Che certo stanno cercando di aumentare la sua consapevolezza Ma che Sembrano veramente tante cose Uno dietro l'altra Senza troppo vero significato logico Cioè io capisco che tutto questo porta ad aumentare la sua consapevolezza e tutto il resto E ora se ne va 3 2 1 Andiamo Beh non è proprio fottiti la traduzione però Il significato era quello Beh quello è perché è scemo lui eh C'è la risposta no è scemo Beh quando ti sei girata verso di me mi sa che è per quello che se l'è presa Ora abbiamo fatto partire la flag Tesoro sono già fidanzato però per te lo farei un'eccezione E' arrossita Adesso scappa C'è tanto che non si comprende il mondo La mia risposta sei tu Eh E questa è l'esistenza umana tesoro Un sacco di pensieri che si contrastano l'uno con l'altro Eppure non le usa Ecco Ah Non capivo Pensavo Pensavo se sarebbe successo qualcosa di male Si ferma il processo Andiamo Beh non dovrei Pensare male del fatto che stiamo avanzando Tanto con Aegis dietro l'altro Anche perché abbiamo fatto la stessa roba con Mitsuru Durante il periodo degli esami Sento la gente che parla Che son Fa così freddo che fatico a uscire dal calduccio del letto Inizio a pensare che con la sindrome apatica La vita sarebbe più semplice Ci sto pensando anch'io Dormire tutto il giorno mi goderei le attenzioni di tutti E se sono tutti apatici Chi ti dà attenzioni? Si esatto Forse dovrei davvero prendere la sindrome apatica Per un po' almeno Wow Sta gente è proprio stupida A Aegis avanziamo Phoenix-san Oh mi dispiace Posso accompagnarti anche oggi D'accordo Grazie infinite Ti va se facciamo una passeggiata Vorrei osservare la gente in un posto affollato Paolonia Che novità eh Oh Shelby Ecco ti pare E' un po' almeno 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 Che roba triste Madonna mia signora Voglio andare a controllare una cosa io Voglio andare a controllare un posto poi E' un po' almeno 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 Ok Grazie Che varie Noi Per spassarsela, non è proprio quello che ha detto Eh, credo di sì, chi lo sa Di essere nata non lo so, ma di essere vissuta di sicuro Perché la vita? Nessuno lo sa Da dove viene la vita? Te lo potrei mostrare in un semplice modo Però non è questo il momento È la vita Purtroppo tesoro bello, sì Tutti i protagonisti prima o poi ci abbandonano Voglio stare per sempre con te È confusione Aegis sembra terribilmente confusa Il mio legame con Aegis si è rafforzato Eh, dai, va bene Tre giorni, tre volte ancora Ah, stai tranquilla Andiamo Sembra voler dire vinceremo noi Sì, giusto, vinceremo insieme Bravo Coromaru, meno male che ci sei tu Mi sono dimenticato di una cosa Cosa ci serve per l'arma Tombo Kiri? Ah, ma è anche un'arma vecchia Ci servono i diamanti, eh, vabbè Lancia che protegge chi la usa dalle alterazioni mentali Certo, potrei avere roba migliore, eh Basterebbe andare nel tartaro e fare questi due oggetti Ecco a te Ci mancano, ovviamente, eh, due richieste Ti sfido ancora, eh Tanto, vabbè, la sera non abbiamo niente da fare Andiamo Magari mi regala un oggetto Grazie per essere venuto Hai un momento? Anche due? Andiamo Ok, usciamo allora Eh, va bene Ho fatto una promessa ad Amada Adesso vince, ti pare? Oh, magari vince Non è servito a molto Pure Eh, vabbè, dai Oh, ma sarebbe stato bello sfidarlo per davvero, eh Anche senza persone, proprio Come con Maruki Attacco a sorpresa Non mollare Niente di personale Ecco, ora vince perché ci siamo distratti Eh, vaffanculo Lo so che ovviamente non ci si distrae durante un combattimento vero Ma questo non è vittoria Meno male che l'ha capito, almeno No Non è vero È imbaroglio questo Siete degli Balordi Sì, come no Andiamo a mangiare patate Cosa ci regali, allora? Quale persona creeremo? Hai barato però, eh Ho abbassato la guardia Lo so Eh, lo so Che cosa La chiave d'argento Che roba carina Eh, beh, certo Niente di qualcosa Il finito Inizio Non è facile Ma Non mi sembra Bisogna Volevo Mora Volevo Non mi sembra No Mi sembra Nero Ma 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 Si Mi sembra Ah, come ho fatto a me... Ah, scusate, facciamo anche un po' di acqua di acqua di acqua di acqua di acqua di acqua? Il prossimo勝負 è in prossimo anno? Più più prima? Ah, sì! Se io sono più grande, se io sono più grande, se io sono più forte, 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 ma se io sono più forte... Vabbè, ci rivedremo allora. Amada era raggente di felicità quando ci siamo uniti con gli altri. Hai stretto un profondo legame con Amada, ora puoi fondere Michael il protettore di tutti. Oh, ecco come si faceva. Chi mi manca dei nostri compagni? Sanada l'abbiamo fatto, Amada l'abbiamo fatto, forse Koromaru? Andiamo, finiamo questo Confident. Stai andando, se non ti dispiace possiamo andare sul tetto. Andiamo. Sì. Grazie. Dunque, andiamo. Fai strada. Beh, le paleoliche dicono il contrario, eh. E sono in confusione totale. Da. Vuoi fartelo asportare? Hai voglia? Era solo curiosità, scusami Non volevo interferire Però lei vuole sentirsi importante Però se ci penso con chi siamo venuti qua effettivamente Di ragazze intendo Se non per storia Beh io e Yuko non ci siamo mai venuti mi sa sopra Vero? E quindi? Che sei umana o che stiamo assieme? Tesoro io sono già vicino a un'altra persona Ma tu sei speciale per me Mi piace stare in tua compagnia Sei speciale per me lo sai Ha deviato il discorso Perché vorresti provarlo anche tu vero? Perché vorresti provarlo anche tu? Ehi L'amore non deve essere per forza fisico Possiamo anche amarci io e te Senza dover per forza Fare cose che fanno gli umani Solo perché tu provi affetto nei miei confronti Non vuol dire che io non posso provarlo nei tuoi E viceversa E quindi? Aigis mi sta fissando intensamente Il mio legame si è rafforzato Perché sei innamorata Ormai non è più il significato Del lo fai perché ti ho visto da bambino e tutto il resto Ormai sei sentimentale Non è più una missione la tua È ovvio che sei innamorata Posso dirlo Nonostante tutto Noi siamo fidanzati E a prescindere che lei ha un confidante speciale Tutto quello che ho detto Mettiamola dal punto di vista storico Mitsuru ha capito da sola cosa provava nei nostri confronti E si è dichiarata automaticamente Dire ad Aigis invece Una bugia che questa è solo amicizia Sarebbe stato invece sbagliato Sarebbe stato sbagliato Perché lei ancora non ha capito Cosa sono questi sentimenti Questo per lei è di più E confondere questo sentimento con l'amicizia L'avrebbe mandata ancora più in confusione Ovvero? Stare con me per sempre o amarmi? Sai che per un attimo pensavo facesse così E si togliesse una lacrima? Pensavo si fosse rattristata molto di più Che si dice? Coso? Dopo oggi restano solo altri dieci giorni E poi arriverà il momento di cui parlavi oggi Beh allora sono pronto Spazzeremo via quella cosa Nix Perché state fissando Kormaru che mangia ragazze? Giovedì Oh si va avanti di storia oggi eh Niente Aegis Mi vuole chiudere uno scabuzzino D'accordo Mi vuole chiudere uno scabuzzino Mitsuru ti ho già detto che non possiamo stare assieme Non puoi chiudermi in uno scabuzzino e violentarmi Mi ha guardato proprio Ci vediamo dopo Adesso ti strumo Quella la ammazza No perché? E tu lo sai perché siete amici ormai no? Vabbè fai come vuoi Che stronza Da ora Stronzo vai Sì Perché era ancora viva scusami Eh esatto Esatto Scusami Che ne Come? Ma in qualche modo è sopravvissuta Trasformarsi in che senso? Com'è possibile Esatto Probabile che Si è risvegliata No sarebbe partito un punto esclamativo Di sicuro Ecco Ma fa culo E questo è un po' di chiudere E' un po' di chiudere E' un po' di chiudere Non è sicuramente successo E' successo E' successo E' successo E' successo E' successo Spero non si incazzi Della serie Perché non me l'hai detto E tutto il resto Spero prenda la cosa Nel modo giusto E che corra in ospedale E basta Eccolo lì Ma fa culo Eh esatto Se non c'è altro da fare D'accordo Abbiamo deciso di tornare all'ospedale Tatsumi e Memorial Tutti assieme Viene anche Yukari Secondo me ha perso la memoria Quanto ci fai? Ah proprio tutti sono venuti Anche se nada D'accordo Lo accompagno Sti cazzi Oh Ma per lei Sei anche un posto Un padre Apenso Un altro Un C'è l'altro... Ha perso la memoria, quanto ci fai? Lo sapevo, lo sapevo, quanto è ovvia sta cosa Ha perso i ricordi ovviamente Tomodachi? Tomodachi? Quanto è cliché tutta questa cosa Eh beh certo, ovvio Però ora parla normale Persona? Ma sì dai, non ti preoccupare L'importante è che sta bene no? Perché non è così? Non ho capito la tua vita Non ho capito la tua vita Non ho capito la tua vita Quanta bella? Cattolastico e bella. Buon lavoro a questo. Non mi ricordo davvero, ma vorrei sopravciare a questo. E... Mi... 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 Si? 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 Che cosa carina. E perchè è ritornata in circo la sua linfa vitale? i fiori le hanno ceduto la sua stessa energia non c'è nessun sogno ma non c'è nessuno ma non c'è nessuno ma la mia ricerca ma la cosa più変a un po' di prima se non c'è cosa 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 è tutto E' proprio lì accanto, pensaci. Se lo vengono, cosa vuoi fare? E' proprio... Non è più che tu. Cidori... Questa è un'esperienza che si tratta di un'esperienza. Non... È un勝利, no? Ma... Come si tratta? Non c'è nulla, no? Non c'è nulla, no? Non c'è nulla, no? Non c'è nulla, no? Che roba triste, Dio mio, ti prego! Madonna mia! Che tristezza! Ecco, ora piangono tutti! Beh, forse non ci sono tutti tutti, forse Sanada non c'è. Oh, salve! Voglio vedere cosa mi dice. Oggi è il giorno più bello di tutta la mia vita! Sono contento, dai! Lasciamogli questa serata solo per lui! Non ci sononti noci! Tocca proprio! Ci sono gli altri! Adesso è uno! Ho! Ho! Asciato! Ho!